Lo scandalo dei consumi truccati che ha travolto Mitsubishi continua ad allargarsi. Il produttore giapponese avrebbe impiegato test di chilometraggio non a norma sin dal lontano 1991, parola di un quotidiano locale secondo cui ad essere interessate sarebbero state dozzine di modelli. No comment della compagnia che sta ancora conducendo delle indagini dopo aver ammesso di aver falsato i consumi dichiarati di quattro minicar. Mitsubishi ha anche detto di aver testato per anni alcuni modelli secondo gli standard degli Stati Uniti, dove le tante autostrade regalano una migliore efficienza nei consumi.